Grazie a tutti. Ci avviciniamo, allora il secondo classificato è Emanuele Franco con l'opera numero 30. Sono orgoglioso di farlo che due soci del nostro ciclo siano impiazzati. Emanuele Franco con l'opera numero 30. Emanuele Franco con l'opera 11 che questa sera non c'è, quindi non abbiamo avuto neppure la possibilità né di vederlo né di poterci complimentare personalmente. Grazie. 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 Grazie.